Amici di Fotogrammi, ben ritrovati! Questa settimana per il Cicco Film de Sé, il Cinema Harrison di Treviglio propone, in compresa dalla regia di Asia Argento, in concorso all'ultimo Festival di Cannes. Il film verrà proiettato mercoledì 23 luglio alle ore 21.15. E ritorno al cinema, attesissimo, l'ultima fatica di Michael Bay, Transformer 4 con Mark Wahlberg. Transformer 4 comincia subito dopo la fine di Transformers 3, quando una grande battaglia aveva lasciato una città a pezzi. L'umanità si è ricomposta, Autobot e Decepticon sono quasi spariti dal pianeta. Un gruppo di potenti e ingegnosi uomini d'affari e scienziati tenta di imparare dalle passate incursioni dei robot, spingendosi oltre i limiti controllabili della tecnologia. Tutto questo, mentre un'antica e potente minaccia Transformer prende di mira la Terra. L'epica avventura e battaglia tra bene e male, libertà e schiavitù ricomincia. Quattro anni dopo l'ultima grande battaglia, un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa che attira l'attenzione di un paranoico ufficiale governativo e di nuovi vecchi Transformers, pronti a minacciare ancora una volta la Terra. E anche per oggi è tutto, vi auguro una buona settimana, alla prossima!